Buonasera, eccoci con Giovine dell'Alba Roma, primo tempo in cui è passato in vantaggio la locomotive, poi nel secondo uscita l'Alba Roma, come l'hai vista tu dal campo? Guarda, primo tempo sicuramente abbiamo all'inizio dovevamo prendere un po' le misure, molti di noi, me compreso, venivano da un periodo di lunga inattività e mancavano dei titolarissimi. Poi devo dire che però abbiamo riniziato a giocare anche grazie a quei tre lì davanti, insomma Omar, Lazzaro e Mancini, anche Gianmarco Roscioli ci hanno dato una grande mano, quindi ci siamo un attimo riassestati. Loro sicuramente sono una buonissima squadra, vanno velocissimo perché sono molto giovani e noi dobbiamo fare le nostre armi migliori che sono il gruppo, la squadra e la tecnica che abbiamo, insomma, anche l'anzianità, tra virgolette, quindi metterci in campo e inquadrarci come abbiamo fatto poi anche nel secondo tempo. Peccato che gli ultimi cinque minuti abbiamo preso quel gol su punizione. Quindi nonostante pochi cambi, comunque un buon secondo tempo, sei soddisfatto a livello personale e di gruppo stasera? Beh, a livello di squadra sì, abbiamo preso tre punti, abbiamo fatto una partita contro, ripeto, un'ottima squadra, soprattutto per quanto riguarda la tenuta fisica, loro sono veramente forti e i tre punti a noi ci servivano. A livello personale sì, non giocavo da tanto e quindi il mio l'ho fatto, dai, insomma, va bene. Grazie, grazie a giovine. Ciao, grazie.